Giuseppe Zed, Letto Cingillo, ci avviciniamo ai giorni fatidici ma per il secondo anno consecutivo non ci sarà il palio. Come hai passato questi giorni di mancata attesa l'anno scorso e come li passerà quest'anno? Mi sa che piano piano ci piglia l'abitudine, è una cosa un po' brutta. Passare questi giorni senza il palio ancora alla volta è dura perché alla fine non si fa un lavoro che ci piace ma senza gli obiettivi che ci sono tutti gli anni, più dura fa tutto perché c'è un tuo programma, inizi un allenamento, inizi le prime corse in provincia, inizi i primi pali, poi arriva Siena e ora questi giorni è anche un anno più di quell'alti perché è dal 2018 che non sono in piazza. Vediamo un po', io non voglio essere pessimista, spero che qualcosa si riesca a fare alla fine annata e poi niente, poi dopo si spera su un 2022 a bomba. Ecco, penso ci sia uno spiraglio magari per uno straordinario a settembre, a ottobre? Ma io voglio gettare la spugna, anche perché se no ci si demoralizza tutti da ora, quindi voglio essere ottimista, sperando che questa sia la strada giusta per ripartire alla grande, poi quello che si riesce a fare, si fa tanto ormai insomma, però io spero che sia un settembre impegnato. Le corse in provincia ci sono stati qualche appuntamento a Mociano, come ti sono sembrati? Il Cigno, insomma, cosa pensi? Ti piace? Sì, il Cigno ormai insomma è già in diversi posti che l'abbiamo testato, anche alle corse asti, c'era, insomma, come sempre si vede anche delle forzature del canape e mi sembra che funziona bene, dai. La pista come ti è sembrato? Sono state un po' di polemiche? A Mociano? Sì. Sì, a Mociano che ti devo dire? Secondo me bisogna fare il provaddestramento, basta, non è che poi il palli bisogna farlo dove conta e il serio impegno va fatto dove conta, secondo me. Perché per quanto può essere simile alla piazza, è che è utilissima per i cavalli giovani, però deve essere provaddestramento. Poi, sai, il discorso della pista, la possano lavorare meglio o peggio, io non voglio stare a sindacare, dipende a volte anche dal tempo, tante volte, quindi, sai, in piazza è diverso, comunque c'è la pietra sotto e metti il tuffo, quei giorni lì, la prezzi, la bagni, ormai è una cosa fatta da anni e anni e va bene in quel modo lì, lì non è la stessa cosa, no? Quindi, certo. Hai tanti cavalli a sculeria, una bella sculeria, anche con appunto tanti soggetti in area di palio, come stanno i tuoi cavalli, in particolare anche Cristallo e la Cloria? Vabbè, i cavalli stanno bene, dai. La punta, diciamo, della tua sculeria? Sì, 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 da di mezzo sangue, quello, insomma, sia lui che anche Zio Feste mi dà delle vere soddisfazioni. Zio Feste è un altro soggetto interessante in ottica palio, diciamo. Sì, 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 poi, insomma, cavallino è nato anche a me, quindi, insomma, quando corri mi fa anche emozionare per quello, no? Perché, insomma, essendo nato via a casa, però, insomma, per quelle poi forse c'è stato, si sono comportati bene, andiamo avanti, si fa queste forse, sono contento che qualcosa si riesce a vedere, si respira un po' aria di palio, sono ripartite un po' di chiacchiere, cioè, quando vedi la gente di qualcosa si parla, perché finora, a parte con quelli c'è i rapporti più stretti, magari anche un po' d'amicizia, dove poi partì a fatti discorsi, ora si parla di qualcosa e comunque coinvolge il palio, no? O di cavalli, o di corse, o qualche movimento, qualche contraria, insomma, un pochino si... vediamo, dai. C'è la possibilità, speriamo, appunto, di uno straordinario, quindi con 10 contrarie sorteggiate. C'è più movimento, in questo senso, rispetto a un palio normale, dove le contrari, cioè, nello straordinario possono correre tutte, ma una contrada non sa se correrà nonno, mentre nei pali ordinari, diciamo, è più regolare la cosa. C'è più movimento, in questo senso, anche da parte delle dirigenze? Sì, c'è più movimento, però poi alla fine, nel concreto, chiaro, chi si vuole pigliare vantaggi, se le piglia qualche vantaggio prima, però non essendoci per niente il quadro completo delle contrade, a volte poi parli nel concreto di poco, no? Perché, insomma, parli meglio quando sa chi corre. Poi, sa, al limite, se ne manca, quando c'è i pali ordinari, manca tre o quattro da estrarre, è diverso, no? Comunque, già un bel pezzo è fatto. Quindi, insomma, però, giustamente fanno bene a muoversi un po' tutti, poi, se ci sarà qualcosa, ci sarà un'estrazione, a quel punto lì, in quell'ultimo mese, sicuramente i movimenti saranno più precisi. Come vedi, giovani, e soprattutto, se dopo questi due anni di stop, forse tre, se non ci, se non fosse possibile correre lo straordinario, se pensi ci possa essere anche un ricambio generazionale da parte di qualche uno? Magari l'ingresso di qualche nuova leva? Ma, e, boh, qualche giovane c'è che si dà da fare, però sai, anche per loro, è chiaro, e non è stato facile, no? Perché essendoci stato sto blocco qui, nessuno ha avuto la possibilità di farsi vedere, di mettersi in evidenza, e poi, insomma, c'è stata una crisi totale di tutti, no? Quindi, è chiaro, anche di qualche fantino fa anche investimenti su cavalli per poi potersi far vedere che non sa nemmeno di preciso quando si riparte, è un po' un problema, no? Quindi anche quello non aiuta, però, insomma, dai, quando uno è giovane e tutto, se ha un po' di stoffa, come riparte tutto, fa la svelta a farsi vedere, a dar dei segnali importanti. Hai una pista nuova, insomma, che ti aiuta anche nel tuo lavoro? Che soddisfazione è stata poter riuscire a completare un lavoro del genere? Eh, tanta roba, era, era, tanto la volevo fare, ci ho messo tanto perché ho cambiato idea più volte, perché io tanto sono così, le cose o le faccio per bene, o se no fare le mezze cose, a me mi sembra di perdere tempo e di spendere due volte o tre volte, è come quando uno inizia a fare una casa, no? Deci, devi pensare bene a quello che vuoi fare, perché se no poi, a farlo più volte, i lavori non ci metti niente. Sì, che insomma c'è stato anni, cambi di progetto pure, perché poi mi venivano altre idee e alla fine poi penso che quella che ho fatto era proprio l'idea giusta per quello che serviva a me ora e in futuro, e ho fatto questa pista, diciamo, quasi dritta di 1200 metri, con l'ultimo pezzo in salita e ci sto lavorando bene, ecco, poi è un bel fa perché comunque non perdo tempo a viaggiare, i cavalli si stressano meno, cioè tutto concentrato, guà, è malso la mattina inizia a lavorare, si lavora bene, stiamo qui e non ci si muove, ecco. Ora mi manca poi in seguito di fare una circolare piccolina giusto per andarci quando uno fa un lavoro leggero, comunque per abituarli un po' a girare anche per questi pali, però insomma questa per fare il fiato, per fare un allenamento per l'ipporosi è l'ideale. Ti sei cimentato anche nell'allevamento con buoni risultati, come è nata questa tua idea e come ti stai trovando? Ma, sa, ce l'avevo da diverso tempo, poi, sa, finché poi non ho comprato qui, che mi sono fatto un po' la struttura, è chiaro, non è facile, no, perché insomma fa un allenamento e gestirlo fuori da altri, così è un po' un problema, e quindi alla fine poi mi sono concentrato più su questa cosa quando, non è che l'ho finita, ma insomma l'ho completata un po' di più la struttura anche per fare un po' di allevamento, poi c'è un po' di fattrici, poi quando mi scelgo un po' gli stalloni, faccio un po' di mezzi, un po' di furi e via.